Potrebbe il caso Balocco aver segnato una svolta nella carriera di Chiara Ferragni come testimonial? Non perdere questo video e scopri tutti i dettagli. Ricorda di iscriverti al canale e lasciare un like per non perderti le prossime analisi. Chiara Ferragni, una delle influencer più influenti e amate del panorama italiano e internazionale, sembra essere al centro di un vortice mediatico che potrebbe aver messo in discussione la sua immagine di imprenditrice impeccabile. Dopo il recente scandalo legato al Pandoro Balocco, in cui è stata accusata di beneficenza Fasulla, sembra che il mondo della pubblicità stia iniziando a riconsiderare il suo valore come testimonial. Chiara, con la sua chioma bionda e il suo stile impeccabile, è stata per anni il volto di Pantene, rappresentando il brand in numerose campagne che hanno riscosso grande successo. Tuttavia, la tempesta scatenata dal caso Balocco ha sollevato dubbi e perplessità non solo tra i fan, ma anche tra i partner commerciali. Mentre le chiacchiere e le supposizioni continuano a circolare, un fatto rimane evidente, i cartelloni pubblicitari che un tempo ospitavano il volto sorridente di Chiara sono stati sostituiti. Al loro posto, ora campeggia l'immagine di una nuova, affascinante bionda. Questo cambiamento improvviso ha suscitato una miriade di domande e teorie. Pantene avrebbe deciso di prendere le distanze da Chiara Ferragni? Il silenzio iniziale dell'azienda non ha fatto altro che alimentare le speculazioni. Tuttavia, come spesso accade, dietro le quinte si stava scrivendo una nuova storia. Infatti, è solo dopo vari giorni di sospetti e ipotesi che emerge la verità, Pantene ha scelto una nuova testimonial. Ma chi è questa misteriosa figura che ha preso il posto di Chiara? Si tratta di Avimond, una modella di 40 anni, di origini israeliane, che vive a Londra. La sua carriera è costellata di collaborazioni con grandi nomi della moda come Calvin Klein, Ralph Lauren e Chanel. Il suo ingresso come volto di Pantene non è solo un cambio di immagine, ma segna anche un possibile nuovo capitolo per il brand, che sembra voler distanziarsi dalle controversie e rilanciarsi con un volto fresco ma altrettanto carismatico. Che ne pensi di questa scelta di Pantene? Credi che il caso Balocco abbia realmente influenzato la decisione del brand o si tratta solo di una coincidenza? Lascia il tuo commento qui sotto, e non dimenticare di iscriverti al canale e cliccare mi piace se vuoi continuare a seguire questa e altre storie intriganti del mondo del gossip e della moda.